noo che va in la cimba noo che va in la cimba noo che va in noo che va in la cimba noo che va in la cimba noo che va in la cimba noo che è L'Op4, l'Operatore è standing. Sì, non ho capito. Ah, c***o, parceria, no Oh, c***o, parceria, no Oh, c***o, c***o Grazie a tutti